Persistente, come una storia collettiva che rimane indelebile nel tempo. Robusto, come un immenso filare che disegna la Toscana. Armonico, come l'equilibrio di antichi saperi e nuove forme di intelligenza. Da dove nasce questa straordinarietà? Dietro a un vino unico non c'è sempre una stagione uguale e perfetta. C'è invece la tenacia di non voler arrendersi alle nuove avversità dei tempi. C'è lo spirito corposo e intenso di generazioni di vignaioli. Solo le radici più profonde possono resistere anche al più insidioso dei venti. Toscana, la stagione della resilienza. Ogni stagione ha la sua sfida.